Ciao ragazzi, siamo ritornati di nuovo, oggi vedremo cosa c'è dentro un Angry Boards, praticamente Vediamo, avviciniamoci Scorre il nito sull'usano Vabbè, prima vogliamo vedere cosa c'è dentro un Angry Boards Dove vai? Ritorna qua Non c'è niente, è vuoto Benissimo Ok, adesso proviamo con un maiale Questo qua che vola È tutto buggato questo gioco Quattro, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ok, c'è una specie di un'altra Guardiamola non è ferma Questo qua che è tutto Sì, c'è tipo la specie di lingua, non so Vabbè ragazzi, io vi saluto Per questo video è tutto Ehm, vi ricordo naturalmente di iscrivervi E di lasciare like Per questo video anche se non lo merita Ehm, vi grazie a tutti i ragazzi Tutto del supporto Ehm, niente Vi saluto Ciao ciao